Viola, stavolta la linea non la do neanche se mi pagano, perché la palla è a ridosso dei 16 metri nel cuore della lunetta, da dove Viola abitualmente fa male a chiunque. Non mi pare che sia in dubbio il fatto che questa punizione la debba battere Nikolas Viola. Vediamo un po' con Milinkovic Savic che piazza la barriera, con Viola che ha preso già la sua distanza, con Mina che rimane davanti al pallone, con Mina che poi va via dopo aver ucciso una zanzara sulla sua fronte, recupera la posizione anche lui nella barriera, c'è un coccodrillo dietro, steso a evitare un tiro basso, l'altra possibilità è Piccoli con il destro, tutto pronto, finge Piccoli, parte Viola, il tiro! GOOOOOOOL! NICOLAS! GOOOOOOOL! Il pallone è passato, ha tolto i denti al coccodrillo e si è infilato a mezza altezza, alla destra del portiere. Non avrei mai dato la linea, neanche sotto Mila Alta Armata. Linea allo studio.